In coda ad un Pokémon Presents decisamente meno entusiasmante del previsto è arrivata una vera e propria notizia bomba. Game Freak è al lavoro su un titolo Pokémon mainline di nuova generazione che potremo giocare alla fine del 2022. Pokémon Scarlato e Pokémon Violetto, questi sono i titoli dei due giochi, ci portano in un mondo che sembra a metà strada tra lo stile della Galar che abbiamo visto con Pokémon Spada e Pokémon Scudo e la libertà e la visione di leggende Pokémon Arceus. Al momento non si hanno tantissime informazioni a riguardo. Sappiamo che la finestra di lancio è fissata per la fine del 2022 ed è confermato dal team di sviluppo di Game Freak che sembra racchiudere in questo prodotto tutte le esperienze raccolte nel bene e nel male negli ultimi capitoli. Oltre a questo abbiamo la conferma che Pokémon Scarlato e Pokémon Violetto saranno totalmente in stile open world, quindi non sarà un open map come quello visto in leggende Pokémon Arceus. A livello estetico e grafico il gioco sembra essere leggermente meglio rispetto a leggende Pokémon Arceus ma comunque sembra rimanere un po' arretrato. Sembrano però essere migliorati sia i modelli dei Pokémon che la densità di elementi presenti nel mondo di gioco. Molto interessante l'ambientazione del tutto che sembra essere molto europea nelle ambientazioni cittadine ed inoltre abbiamo anche potuto dare un primo sguardo ai tre nuovi starter visti in un'immagine. Abbiamo per il tipo erba una specie di gatto, un coccodrillo per quanto riguarda il tipo fuoco e una papera per quanto riguarda il tipo acqua. E niente ragazzi questo era un video abbastanza veloce giusto per informarvi che la nonna generazione è stata finalmente annunciata. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto in un commento e ditemi anche quale di questi tre starter vi è piaciuto di più. Come sempre io vi ringrazio per aver guardato questo video. Un saluto e alla prossima.